L'approvazione della legge di stabilità che ha visto Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale schierarsi contro è l'ennesima riprova di un governo che non ha idee chiare. Non ci sono stati tagli sostanziali alla spesa pubblica perché comunque si continua a non ritenere le regioni una macchina mangiasoldi come in realtà sono. Si interviene sulle province in maniera limitata, peraltro abbiamo chiesto che siano garantiti i posti di lavoro nelle province che vengono parzialmente ricodificate, non si abbassa la pressione fiscale, anzi al contrario è certa ormai l'aumento della tassazione sull'IVA e sulle accise dei carburanti, quindi diciamo che si fa esattamente il contrario di quello di cui avrebbe bisogno l'Italia.